. Mauro Corona è uno degli ospiti fissi di Carta Bianca, il programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer. E proprio con quest'ultima, spesso e volentieri, si lascia andare a siparietti poco edificanti. Solo qualche giorno fa, infatti, lo scrittore e alpinista ha attaccato duramente la conduttrice televisiva. Eppure nei suoi confronti Mauro Corona prova una sorta di attrazione tanto da aver avanzato, nelle settimane precedenti, anche qualche simpatica Vences. Durante la trasmissione, l'alpinista, in collegamento, aveva scherzato, solo gli sciocchi, come diceva Balzac, sorridono il mattino quando fanno colazione. Lei è sicura di prendere un taxi e tornare a casa? Al che la Berlinguer aveva replicato, faccio le corna, me la tira subito alla prima puntata. Ecco, qui Corona si era lasciato andare con il suo solito stile, se mi invita a fare le corna, io sono pronto. Ma questo odio-amore tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona è un contiguo. Tant'è che dopo questo siparietto simpatico nei giorni successivi è arrivato uno scontro senza precedenti tra i due. Colpa dello scrittore alpinista. La lite di mercoledì scorso era nata per alcune accuse da parte dello scrittore rivolte alla conduttrice. A far scattare la reazione era stata questa frase di Corona, non siamo a Roma dove c'è un ospedale ogni 10 metri, vuol darmi una mano ad aiutare i poveri e i disagiati? Ogni volta che tocco temi importanti fa la schivata, come i surfisti. Immediatamente era arrivata la risposta.